pece qua molto pece pece qua vai in piano poi vai su veloce e non ti fermare vai su di inerzia perché visto che l'ho fatta piano mi sono fermato a metà mi sono fermato a metà e capi? e 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